Gian Paolo Costan, ci troviamo all'interno della sede di Forza Nuova, oggi avverrà la presentazione del libro di Geremia Iudicone su bombardamenti a fondi, in realtà un libro già uscito più di dieci anni fa, nel 94, perché Forza Nuova ha scelto proprio di raccontare questa parte di storia fondana? Noi vogliamo raccontare la storia attraverso tutti i protagonisti, coloro che l'hanno veramente vissuta e Geremia Iudicone oltre che essere un emerito e famoso storico di fondi e anche della fondi antica, ha vissuto e è stato in prima persona la storia di fondi degli ultimi 70 anni ed ha vissuto il momento drammatico soprattutto del bombardamento che subì fondi fra la fine del 43 e l'inizio del 44 dalle flotte aeree anglo-americane. Fondi fu quasi completamente distrutta, al 90% distrutta e lui in questo libro che noi questa sera vogliamo riproporre racconta proprio la storia di quei giorni, la storia drammatica di quei giorni in cui lui si aggirava veramente da solo praticamente fra le rovine di questa città non riuscendo nemmeno a riconoscere le vie e le strade e le case che lui ben conosceva. Perché è importante che i cittadini riscoprino quest'angolo di storia un po' dimenticato? Ma è un angolo di storia dimenticato di una città che è stata completamente ricostruita, ci fa quindi ricapire come sono state ricostruite alcune strutture, alcuni palazzi, alcuni movimenti storici, per esempio alcune chiese, come alcune chiese sono andate completamente distrutte e quindi diciamo che è molto importante questo, che le nuove generazioni sappiano che però queste distruzioni sono state purtroppo perpetrate dagli anglo-americani e non come forse una vulgata storica che si è voluto imporre si pensa che siano stati tedeschi. Voglio ricordare che qui correva e c'era la linea difensiva tedesca, quindi era veramente assurdo che i tedeschi bombardassero la loro linea difensiva. Tutti i bombardamenti che sono stati fatti, oltre che a fondi anche nelle altre città vicine, per esempio l'Enola, per esempio anche a Terracina, che però bisogna dire onestamente non furono così devastanti come a fondi, furono effettuati dagli anglo-americani. Lo storico Geremia Iuticone, che ricordi ha di quell'epoca? Di aver vissuto quello che io ho riportato in questa raccolta di memoria, le ho vissute, dal primo all'ultimo giorno, in maniera terribile, con gran pericolo di vita. Che messaggio vuole dare attraverso il suo libro? Il messaggio è questo. Io ho intitolato definitivamente questo libro, Gli anni della guerra a fondi, perché nessuno se ne è ricordato, nessuno ha provveduto, nessuno ha fatto niente. Però questo titolo è subentrato dopo che io pensavo a quest'altro titolo, che io l'ho messo come sottotitolo. Tutti avevano dimenticato che succede la guerra. Io capisco pure perché ti tentavano di dimenticare. Le faccende erano talmente brutte, ma bruttissime. Dalla civiltà si è passate alla vita cavernicola, a nomade, in tutti i sensi, in senso abitativo, in senso delle provviste, la fame è un'altra cosa, accompagnata da un'altra presenza.